Si è tenuta al Teatro Umberto Giordano di Foggia la serata di gala del quarto concorso lirico internazionale Andrea Chenier, organizzato dall'Associazione Musicale Insieme per la Lirica, presieduta da Massimiliano Guerrieri, direttore artistico Angela Rosa Ricco. Dal primo al 3 aprile 57 cantanti provenienti da ogni parte del mondo si sono esibiti davanti ad una giuria di esperti. Dalla migliore voce femminile alla migliore esecuzione di un'area giordaniana, tanti sono stati i premi offerti dai club che hanno collaborato al concorso. La Fondazione Musicale, Alliance Club Giordano, Club Unesco di Foggia, Club Soroptimist International e Club Inner Wheel di Foggia. Il primo classificato di questa quarta edizione del concorso Andrea Chenier è stato Boskin of Bosidan, basso proveniente dalla Bulgaria.